I bianconeri vanno in vantaggio, c'è una lunga azione, un batti e ribatti in area peugina, fin quando la palla non arriva a Fanna. Non è ancora questo il momento, ecco che Fanna arriva, vedete come si destreggia bene, poi tira e sorprende sicuramente Mancini, basso sulla sinistra ed è 1-0 per l'aiuto. Ecco il numero 10, qualcuno quando ha segnato ha detto l'avesse fatto mercoledì con l'Arsenal, un gol come questo. Ecco il gol di tavola, molto bello, 2-0. Al 22esimo Furino si trova davanti al portiere, lo mettono giù, eccolo, vecchio Furia, l'arbitro non ha esitazione, il rigore, chi lo tira? Lo tira Bettega perché ha delle mire sulla classifica dei canonieri.